Radio Roma Capitale, informazioni sulla città. La manifestazione Book Show Live, un lettore d'eccezione, conduce il pubblico in un viaggio attraverso le pagine più belle dei suoi libri preferiti. L'ingresso libero è ancora prorogata fino al 25 ottobre la pedonalizzazione dei fori imperiali. Il traffico tra Piazza del Colosseo e Largo Corradurici è consentito solo alle bici e ai bus anche. Ci sono le auto private anche il tratto tra Piazza Venezia e il Colosseo. Grazie a tutti.